Adesso il mio obiettivo è capire come ha fatto Red Bull ad andare così forte. Nel post-GP l'ho praticamente detto in tutte le salse. I record portati a casa da Max Verstapp non sarebbero stati possibili senza un pilota mostruoso, ma nemmeno senza un RB18 fenomenale. Nei commenti a quel video lì giustamente una gran fetta di voi ha puntato il dito contro la nuova direttiva tecnica, la TD39. Ma se vi dicessi che questa cosa non è fattibile, non può essere vero? L'unico problema è che per reperire le notizie di Red Bull devi andare fuori Italia. E tradurre. Ma va bene lo stesso. Andiamo con ordine, perché non tutti hanno capito a cosa serve e perché è nata la nuova direttiva. In sostanza la federazione ha presentato due modifiche al regolamento. La prima definisce una metrica di oscillazione aerodinamica, che impone un valore massimo di oscillazioni al telaio. Nel momento in cui queste dovessero risultare eccessive, gli ingegneri devono aumentare l'altezza della vettura dal suolo. La seconda invece verte sul controllo e sull'usura degli skid block e dei plank, ossia queste parti sotto la monoposto, che sicuramente starete vedendo a schermo. Essendo il primo una parte che tocca a terra, e in teoria non dovrebbe il secondo, devono avere uno spessore di 10 mm e un'usura massima di un millimetro. E la nota tecnica dove è avvenuta la modifica prende il nome di TD3922. Abbiamo un'infarinatura, non ci interessa essere troppo dettagliati. Perché dico ciò? Perché queste sono le regole che hanno effetto a breve termine. È solo dall'anno prossimo che vedremo il bordo del fondo rialzato di circa 25 mm. Quindi l'intervento al Gran Premio del Belgio, sì, è stato importante, ma non massiccio. Però c'è stato, quindi la domanda sorge spontanea. Quanto hanno inciso queste modifiche a breve termine? Molto poco. E ci sono vari fattori che spiegano ciò. I primi due li possiamo ritrovare nelle parole di Mattia Binotto a Sky UK, ma anche nelle parole di Charles Leclerc a Sky Italia. Il team principal Ferrari ha espressamente detto che le modifiche della direttiva hanno influito in modo del tutto trascurabile. Mentre il monegasco non ha mai parlato della direttiva. Ha focalizzato tutte le attenzioni sulla Red Bull e su quel che ha trovato. Però giustamente qualcuno di voi può dire che prova è, stai speculando? No, state tranquilli perché è qui che mi guadagno la vostra iscrizione. Forse. Il circuito di Spa è speciale in termini di altezza. A causa di questa curva qui, O'Rouge, i team devono alzare le vetture più del solito. Circa 5-6 mm in più rispetto alla norma. E già solo questo, basta dirci che quel che abbiamo visto in Belgio si sarebbe verificato anche senza direttiva. In realtà in questo caso specifico le vetture sono state alzate anche più del normale. Questo perché tra la 14 e la 15 le monoposto devono affrontare un dosso enorme. Mettendo quindi di fatto Mercedes e Ferrari in una finestra il cui il carico che riuscivano a garantire alla monoposto era decisamente più basso del normale. Cosa hanno fatto per risolvere questo problema? Hanno dovuto tagliare le sospensioni più del solito. Andando a gravare sul grip meccanico, sull'aderenza e quindi sull'impronta degli pneumatici. Ferrari ha accusato tantissimo queste modifiche, mentre Red Bull addirittura si sentiva a suo agio con maggiore altezza da terra. Rimanendo di fatto una Red Bull normale, con Power Unit nuova montata e con Verstappen al comando. Red Bull di per sé è forte. La Power Unit nuova ha sicuramente inciso, con qualche miglioria ragazzi. E poi Verstappen e Verstappen. E quindi la direttiva tecnica contro il Port Poising non ha avuto alcun impatto sugli equilibri di Spa. Per dirvi ciò non sono un autogenio ovviamente, però ho preso più fonti. Diciamo che la fonte madre è Amus, dove più ho preso le informazioni. Automotor and Sport. Che chi è dentro l'ambiente Formula 1 sa benissimo quanto sia rispettabilissima questa testata. Ma tra l'altro da qui riusciamo anche a ricavarne un senso logico ragazzi. Altrimenti non si spiega quanto visto è la schiacciante superiorità di Red Bull. Però se ci pensate a confermare questo scenario abbiamo anche lo stesso Binotto. Che in gara Sainz ha chiesto esplicitamente di evitare i cordoli. Affinché potessero essere sicuri sull'usura del pattino sul fondo. Però non voglio che passi il messaggio sbagliato. Cerchiamo di essere comunque ampi ragazzi. Pensateci, quel che abbiamo visto a Spa è essenzialmente uno scenario di gara normale. Prendiamo i distacchi tra Red Bull e Mercedes. Se notiamo sono sempre quei 30 secondi di svantaggio per la casa tedesca. Quindi dobbiamo anche vederla come sì, il circuito è inciso, una motivazione più che valida. Ma non dobbiamo distrarci dal fatto che Ferrari effettivamente è venuta a mancare. E la scuderia di Maranello che si è trovata indietro. Mercedes è rimasta uguale, Red Bull è rimasta uguale. Potremmo vederla anche così. O magari sono migliorate insieme. Se la mettiamo così il crollo della prestazione non deve essere sottovalutato. Quella risposta lì ci torna utile. È unito a tutto quel che abbiamo detto nel post GP. Ci dà un quadro più completo. Può spiegare il gap gigantesco di 26 secondi tra Red Bull e Ferrari. Ma resta di fatto che Ferrari e Mercedes sono troppo vicini. E allora è anche giusto pensare e ipotizzare che Ferrari ha sbagliato setup. Che è possibile non perché non sono capaci in casa Maranello. Ma perché c'è una nuova gestione delle oscillazioni. Che ha sicuramente avuto un impatto più grande sul cavallino piuttosto che gli altri. Sapevamo che a Mercedes avrebbe influito poco. Ma a quanto pare chi ne ha avuto più un vantaggio è stato Red Bull. Poi se aggiungiamo anche le temperature discontinue. La sfortuna di Leclerc. I pochi dati. Ripeto siamo arrivati a un punto che forse questo gap è giustificato. Però non ci lascio delle buone premesse per Zanduor. Per Monza sempre il team principal Ferrari. Sempre i microfoni di Sky UK. Ha detto che non crede ci saranno difficoltà. Perché porteranno un grande pacchetto aggiornamenti solo per Monza. E quindi magari lì possiamo essere più tranquilli. Ma in un circuito come quello di Zanduor. Che è casa di Max Verstappen. Ed è comunque una mini montagna russa. Per dislivelli. Riducioso non lo sono. Però su questo come al solito seguono aggiornamenti. E quindi seguitemi su Instagram. Iscrivetevi al canale con la campanellina. Io vi saluto da Tonio. Era tutto. Passo. E chiudo.